bello a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video come al solito io sono Gaby e io Birillo oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo lipido vai Birillo esponicelo allora si chiama butter pecan tofu una torta con delle pralline e del caramello una bomba consigliato da denis di svapo caffè ricordiamolo marina di carara moliciara e la spezia andateci a fare giro perché ci sono dei liquidini e molto gustosi ora andiamo a fare la prova di questo liquido e a dare la votazione finale a questo liquidino 50 ml ci metti la base tra 10 diventa 70 vai gabry zero nicotina ricordiamo io andrò a provarlo con il cani v2 e il druga che ormai è una coppiata vincente per me io invece con il gummi 1 e mezzo è sempre il Gaby v2 la gabry mi fa un po' tossire è dolcissima è buona però a me piace io in prevalenza sento il caramello la torta alla crema non lo so un po' di burro si fa un botto di vapore fa un botto di vapore i liquidazzi che ci piacciono come vuoi la sera te lo gusti magari il tuo giorno mi sbaglio dopo un po' forse si questo quando ti vuoi un po' divertire così cambiare un po' il sapore in bocca che sei stufo degli altri liquidi perché tutto il giorno è un po' pesante un po' pesante un po' pesante che volto gli dai? un l'olto si sono merito ma che bello dolce cianita bello dolce ti arriva proprio in bocca ti fa venire voglia di fare un altro tiro esatto Gabry allora dalla taverna dello swap è tutto se vi vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordate che abbiamo la pagina su facebook e su instagram sempre la taverna dello swap vi aspettiamo ciao ragazzi